Ciao creatora, sono qui oggi sul divano che guardo, in realtà sto registrando la 24 ore, i miei follower controllo la mia vita per 24 ore ASMR ma ho preso anche questi Deblian, una delle MT e l'altro dell'ITL e vorrei fare una cosa easy, qui guardarli insieme totalmente solo con la videocamera, senza microfoni e sbatti vari allora, l'MT è l'ex LT, una volta si chiamava LT, adesso si chiama come una droga, va bene, accettiamo e non c'è in tutte le città, in tutti i paesi, all'Italia c'è, è un seguito da 25 anni, buona spesa va bene, d'Italia, e dall'11 al 21 luglio 2019 ci offre queste offerte, allora c'è il, c'è scritto 20, buon po' a gelato allora 49, ma andiamo a vedere le cose più interessanti non ho mai visto il Deblian del MT, in realtà me lo sono ritrovata nella cassetta delle lettere, non proprio nella mia ma in quella condominiale l'MT ci vado raramente solo per prendere alcuni articoli, come per esempio quei mezzi che sono tipo coppette gelato, cioè sono a forma di coppetta, però sono tipo cono gelato di gialda, praticamente un cono senza la punta, che costano 70 centesimi, sono buoni e li uso per fare le palline, ci metto le palline di gelato dentro e faccio i gelati come quelli in gelateria però me li mangio a casa, e è bello perché poi la coppetta te la mangi e quindi non sprechi niente ok, allora qua vedo che c'è Antonella Clerici, con scritto la ricetta di Antonella, addirittura l'MT cremoso allo yogurt con pere e salsa di fragole, ingredienti, 500 grammi di yogurt alla stracciatella ma il Caparadiso, che ovviamente lo trovi all'MT, è una confessione di pasta a filo, 300 grammi di fragole una pera, 200 grammi di mascarpone, Mike Paradiso, che sarà la marca dell'MT, giustamente, 120 grammi di zucchero a velo 100 grammi di zucchero semolato, 60 grammi di burro, quanto basta succo di limone, quanto basta menta fresca ci dice che è facile e dopo 20 minuti porti un segno, è un cuscino che mi dava fastidio spostato e qua ci sono tutti i procedimenti, consiglio per la tua ricetta poi, qui cosa abbiamo di interessante, sono attivati i grilli no le cicale, no i grilli, no le cicale, decidi però guarda, corgozzola, corgozzola spray, no magari allora abbiamo un bel po' di formaggi, poi ci sono i saloni altri saloni, ecco questa mi sembra interessante, la fattoria del cavaliere, succhi allora c'è il succhi alle noci, succhi ai funghi, succhi ai formaggi alla siciliana vi farebbe voglia di provare quello alle noci e quello ai formaggi, saranno a 89 centesimi questi li vorrei provare sinceramente poi, vediamo un po' che cosa mi fa voglia dai gelatici effettivamente c'è la vaschetta, gelato, le specialità di peppe, tartufo, caffè, della misur marina e cacao, poi il bianco, altri biscotti della specialità di peppe mi fa il tempo che mio nonno si chiamava giuseppe, lo chiamava peppe, però con una bisola e quindi mi fa, che poi all'italia ce l'ho marcato per la giuseppe invece, per le pizze questo i gelati MMS, wow poi c'è il succo biologico, anche questo mi fa voglia provare mela, zucca, carota, mela, ah ok, mela zucca, no carota, mela, sedano, limone, bubello, mela, ancora guarda, I'm confused, ribes nero, parpapietola, no, io devo troppo provarne uno, un euro e cinquantano prenderei, un bel, perché gli altri un po' che non siano buoni, però no dai, quello che c'è già questi succhi qua sono benedetto, sono buoni succo di frutta c'è anche il gusto, un pessimo fruit però mi sono troppo di dolci qua non si capisce, perché secondo me sono un mix, però non ti hanno messo virgole quindi non so quali siano, c'è quello rosso, quello, ha ragione, quale sia, sarò, capito non c'è virgole appunto, non c'è niente, forse è mela, zucca, carota, carota, mela sedano, limone, pompaimo, mela, ribes nero, parpapietola, non lo so, ma è confused, devono mettere una virgola però, poi sciroppi varie, bibite originale di calabrio, mai visti questi? acqua di cocco, non l'ho mai vista l'MD, però adesso l'andrò a cercare e un RVD perché sta pure in offerta poi poi ci sono attivate, non le avevo ancora sentite le cicale ci sono attivate adesso, che sono quasi dal video, spero che non ti rilassi video così, così chiudo la finestra ok, ho chiuso la finestra perché avevo paura che facessero troppo casino dopo lo riapro, sennò moriamo dal caldo gioie di brutta c'è il bounty tarocco a 79, sta in offerta ok, qui nulla di così di platanica poi ci sono qua, linea 35, ecologico bagna schiuma neutro, con tutte le palline bella questa borsa mare a 50, ecologico bellissima anche questo zaino termico mi piace, però c'è già la borsa iotermica anche questo pare autunno che in realtà secondo me non pare che ce ne vedrà dimensioni effettivamente qui a 1,99 euro hanno molti accessori rondella, taglia pizza, acciaio minox, plastica e colori assortiti pizza da cucina pella patate pizza per risalata spremi aglio, palletta per dolci temperino, pella carote spremi agrumi manuali o il badminton set poi qui arrivano i saldi mt webstore addirittura penso un po' e qui come all'italia anche loro si questo è il prezzo più buono che ho visto fino adesso delle anguria sta a 0,29 al chilo è il prezzo più buono di tutti è il più basso che ho visto poi abbiamo le offerte qua XXL dell'Itel dall'8 07 al 14 07 praticamente hanno tutte le cose le offerte normali solo che sono le confezioni quelle XXL quindi quelle grandi allora queste alette di pollo marinate mi fanno voglia 3,99 che cosa è questo il passolino mi sono appena comprato snack di mais il salto sale i formaggi buoni questi per adesso questi qua stuzzicano un appetito alla fantasia mini burger vegetali 1 euro 29 con gg e avena o con spinaci li proverai questi si mi fanno molto curiosità quelli con cecci poi hanno questi gelati vaschetta, gelato, cioccolato caffè o caramello prenderei caramello anche la pasta la comprerò perché 59 centesimi questa qua dell'italiano è la più buona mi preferito sono i fusili ovviamente però abbiamo ricatoni, penne, ricate un fusilli queste gallette non le ho mai viste forse le tirare alcune cose non ci sono secondo me alcune cose non ci sono qui c'è grigliata party o cocktail we love summer da giovedì 1107 anche questi burger vegetariani mi fanno voglia diversi gusti a scelta allora c'è e chino burger sono tutti chino burger questo è vegeta poi anche queste polpette di carne suina dove erano 99 classiche con pancetta fumicata e formaggio prenderei con pancetta fumicata e formaggio io sono con nivora se te lo stai chiedendo quindi mi piace mangiare sia cose di carne sia anche cose vegani o vegetariani mi piace variare mangiare tutto provare tante cose e e questo succo alla melograna o acqua di cocco 1 euro e 49 devo provare anche questo della vitasia 100% coconut water speriamo che sia buono ho appena starnutito questo del risparmio non era molto semelanzi per niente allora glassa per gelato 1 euro e 49 di questi gusti tutti da provare wow anche uno di questi mi vorrei prendere a gentile motivo se ti fessi ancora 1 euro perché io ce l'ho però un po' di smico fammela mezzo rotto non so come ho fatto ce l'ho rosso me lo prenderei nero meno plastica ecco queste cose mi piacciono tanto grande l'idea allora un gesto concreto per aiutare l'ambiente stiamo eliminando dai nostri scaffali prodotti monouso in plastica passa al biodegradabile ecco compostabile dalla natura alla natura risorse rinnovabili prodotti compostaggio industriale lo sapevi che bla è un tipo di bioplastica che deriva interamente da monti rinnovabili di origine vegetale ma mater b è un biopolimero che ha nelle fonti vegetali rinnovabili la sua componente principale scusa se tremmo fibra vegetale si ricava da cellulosa da derivati della lavorazione di piante a crescita veloce e infatti hanno messo tutti i nuovi prodotti di questa marca qui sono biodegradabili e compostabili anche l'involucro è più degradabile e compostabile da smaltire con i rifiuti organici che bello ha messo i piatti i bicchieri da caffè i coltelli le forchette i cucchiai e non costano mica di più di quelli di plastica quindi conviene prendere i bicchieri quelli più grandi quelli un po' più piccini e poi cucchiaino che bello inoltre abbiamo eliminato la plastica dalle confessioni delle uova sicuro da un po' che non è ancora bellissimo questa cosa cucinare è facile e veloce beh insomma dipende esplici tutto non è molto sano però è facile e veloce non è sempre la scelta migliore ecco qui abbiamo a casa tua come in spa in bagno confortevole ah sì un bagno confortevole c'è un orologio radiocontrollato per bagno addirittura questo è il mio genocchio ah ho visto la cosa bellissima brutta minima bagno schiuma coccolo voglio voglio provarlo questo spero di trovarlo altrimenti proverò buon bene questa marca non l'ho ancora provata al cocco speriamo sia buona volendo c'è anche la crema corpo ma non ne ho bisogno intanto la freschezza del nino la freschezza del nino qui ci sono le piante ufficino attrezzata tutta l'avvitabilità di parkside per il guadate e il giardino per il tour ce l'ho io questo bellissimo lo usavo per il film per uso cose cose per le mie piante avventure piccine che belli sei e basta con il super piccato come al solito ventilatore attore lo voglio così bravo va bene spero che questo video ti abbia fatto rilassare ti sia stato comunque utile e anche se è stato fatto in modo easy senza microfoni e altre cose varie però ci tenevo a fare lo stesso video magari extra tranquillo ecco easy grazie per averlo visto buonanotte creatura grazie a tutti